Maria, come stai Maria? E' bellissima Maria Maria ti trovo sempre più bella Che succede? Maria non le mette, è calda, non le mette Ecco Va bene così Dico ma la gente ti segue, ti chiama Sì, sì, mi dicono ma quando canti, specialmente bambine Ah, i bambini, l'amore nostro sono i bambini E infatti, comunque Per favore, insieme il fotografico Sì Comunque volevo salutare pure Ai due amici che stanno a partire a Mondello In questo momento non mi ricordo come si chiamano Ma comunque Sì, ho scritto anche due canzoni inediti Sì Uno si chiama Intrusse L'altro si chiama La tua metà La tua metà la dedico No, voglio dire l'altra La tua metà la dedico a mia figlia E a tutti quelli che si amano E infatti, anch'io ricambio la stessa cosa E a tutti, nello studio, sono molto emozionata A Gioacchino E a tutti quelli che hanno avuto Sturin, ma direi E a tutti quelli che hanno avuto E a tutti quelli che hanno avuto E a tutti, nello studio, sono molto emozionata E a tutti, nello studio, sono molto emozionata Con l'intrusso fra di noi Come si fa L'intrusso fra di noi Come si fa E a tutti, nello studio, sono molto emozionata E a tutti, nello studio, sono molto emozionata E a tutti, nello studio, sono molto emozionata le mie parole. Dove potevamo vivere in armonia, insieme ai nostri figli, lontani da qui. L'incluso fra di noi come si fa, discorsi, sempre discorsi, come si fa, guerre, solo guerre, sempre guerre. Ti posso solo dire, sono santa, ti posso solo dire, ascoltami, con l'incluso fra di noi come si fa. Ti posso solo dire, ascoltami, con l'incluso fra di noi come si fa. Si fa. Sento le tue mani, il tuo amore, il tuo corpo di te stesso perché ti amo. E' questo amore che sento con nessun altro. Appracciami e io ti abbraccerò, stringimi e io ti stringerò, toccami e io ti toccherò, stringimi e io ti stringerò, stringimi, adesso che sei qui con me. L'amore non si chiede con le parole, l'amore non si chiede con le parole, ma con gli occhi e io ti stringerò, stringimi e io ti stringerò, stringimi e io ti toccherò, stringimi, adesso che sei qui con me. Appracciami e io ti stringimi e io ti stringerò, stringimi e io ti stringerò, stringimi e io ti toccherò, stringimi, adesso che sei qui con me. Maria! Eri emozionatissima. Eri emozionata Maria, va bene, insomma, mi è andata benissimo. Voglio salutare anche Ignazio Barone. Ah, ciao Ignazio, ciao Ignazio. E a tutti. Ignazio è il tuo soluzione, quello che fa, dischi e così. Ciao Ignazio, un saluto anche per tuo papà, va bene? Ok, un bacio a tutti. Un saluto anche per tuo padre. Già è uscito, pure. Un saluto anche per tuo padre, ciao, ciao. E a tutta la mia famiglia, a tutti. Va bene, allora lasciamo... Ciao Maria! Ciao Maria! La più bella del mondo, Maria Cucchiara!